Sì, è finito l'inizio. Il Bayern ha fatto fareggiato con la Juve e ne ha perso una. Guarda, guarda! Oh! No! Superata! Con chi? Dai Mora! Secondo! Dai Mario, tira! Tira! Uno! No! 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 Dai, dai! Dai, dai! No! Non si fa che lo ha pagato. Ma non ti ha pagato Alessandro d'Aiuto Rocco, ventissima BALLO! River 1 ha segnato il numero 8, Edoardo Leotta Edoardo Edoardo bella bella ha segnato il numero 10 Jonathan Broggini numero 1 ha segnato il numero 17 Jacopo Tallarita grazie 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 grazie